Con la chiusura delle scuole per emergenza Covid-19, la Regione Toscana ha adattato a questa circostanza straordinaria il progetto di promozione della lettura ad alta voce Leggere Forte, messo a punto con la direzione scientifica dell'Università di Perugia. E così sono stati caricati su un canale YouTube, a disposizione delle famiglie, oltre 100 titoli di audio e video di letture ad alta voce, adatti a bambini e ragazzi di varie età. E finora le visualizzazioni sono state più di 23.000, con una crescita del 200% in una settimana. Abbiamo pensato di mettere a disposizione degli audiotesti letti da educatori e da docenti delle nostre scuole proprio perché il nostro progetto che tanto successo ha avuto nei mesi scorsi e che si possa continuare anche in una modalità di emergenza come quella che ci impone il Covid-19. Nell'ampia offerta del canale YouTube Leggere Forte c'è anche il nuovo titolo Canta la mappa, atlante bizzarro di cose curiose, realizzato dal collettivo di scrittori Vuming.